Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi giovedì 9 agosto, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi. Beh, c'è un tema che non tutti i giornali hanno tenuto in considerazione, ma secondo me è molto interessante, lo dico senza nessuna infingimento, è come verrà finanziata questa flat tax di cui si parla da mesi e di cui tutti quanti gli intervistati non dicono assolutamente nulla, l'intervista dell'altro giorno a Tria non diceva nulla sul Sole 24 Ore, le interviste di oggi a Conte, figuratevi un po' voi, dicono assolutamente nulla su come finanziarla, oggi un'ipotesi c'è che deve essere emersa dai tecnici del Ministero nei giorni scorsi ed è l'apertura del Corriere della Sera e cioè sostanzialmente si andrebbero a recuperare la bellezza di 9 miliardi di Euro 9 miliardi di Euro dal vecchio bonus degli 80 Euro che aveva provisto il governo Renzi, secondo me nel 2016, scusatemi, il bonus degli 80 Euro, ve lo ricordo, era una riduzione del costo del lavoro che non veniva neanche considerata riduzione fiscale perché poi c'era la difficoltà dei conguagli, insomma e valeva 9 miliardi di Euro ed era per chiunque avesse un lavoro dipendente fino a 26 mila Euro. Se si toglieste questo bonus di 80 Euro che sembra non abbia fatto granché, tutti gli facevano le critiche, tutti dicevano ma chi se ne frega degli 80 Euro, la mancia elettorale, ve la ricordate? Si potrebbe passare da quella mancia elettorale alla flat tax, vi dico subito come la penso, non c'è scritto sui giornali oggi perché non è stata molto approfondita, molto meglio una flat tax che quell'incasinamento degli 80 Euro, anche se è evidente come la flat tax valga più per i professionisti, più per i lavoratori autonomi che per i lavoratori dipendenti perché i lavoratori dipendenti dovrebbero avere riduzioni delle aliquote IRPERF per avere un vantaggio fiscale mentre la flat tax, almeno da come sembra essere congegnata nelle ultime ore, vale per i professionisti dipendenti. Egoisticamente, ma non solo, penso per il futuro di questo Paese, comunque una riduzione fiscale per chi non ha tutele, non ha vincoli di dipendenza, cioè da una parte, se posso dire la mia con grande semplicità, da una parte siccome penso che il mondo sarà sempre più precarizzato, nonostante le cagate dei decreti di dignità, l'obbligo che si chiede di avere contratto a tempo indeterminato, purtroppo sarà molto difficile avere quella società, insomma un aiuto fiscale a quelli che sono più incerti e meno tutelati, secondo me è cosa buona e giusta. Quindi se questa flat tax, come voi sapete io ne sono granché molto convinto, verrà finanziata anche attraverso questo strumento, why not? Sempre meglio di quello che c'è oggi, anche se ovviamente la via maestra per ridurre il fisco in ogni Paese è quella di ridurre le spese e non gli incentivi fiscali. Seconda notizia di giornata, ne parlano tutti, ma mi sembra che ancora nessuno ne abbia fatto un commento, perché tutti hanno paura a commentare quando si parla di agenzie delle entrate, perché tutti quanti noi abbiamo uno scheletrino nell'armadio, o meglio ce lo possono trovare, è l'idea geniale di questo governo, qual è stata? Togliamo Ruffini che era stato confermato fino al 2020, capo prima di Equitalia, poi dell'agenzia delle entrate perché aveva il difetto tremendo di essere stata nominata dal precedente governo, e mettiamo, sai credi chi? Mettiamo un generale della finanza a guidare l'agenzia delle entrate. Allora io vi chiedo e vi dico, secondo voi la persona giusta per guidare l'agenzia delle entrate è un generale della finanza, un generale della finanza del Veneto, che sarà magari una bravissima persona, magari mi contraddirò nei prossimi mesi, ma a naso io all'agenzia delle entrate non metterai quello che viene nella mia casa, mi blocca l'ufficio e nel 90% delle cose delle volte fa dei verbali che sono 10 volte superiori a quelli che io devo dare, perché tanto no, poi alla fine all'agenzia delle entrate si va a un accordo. Cioè, secondo voi un generale all'agenzia delle entrate è la risposta giusta? Bah, vedremo comunque la pace fiscale come verrà fatta, anche se ovviamente non sarà lui a farla, ma sarà il governo. Qualcuno dice dovrà gestire la pace fiscale, no, la pace fiscale la fa il governo, oggi ho letto sui giornali. Il vero problema non è questo, il vero problema è i controlli amministrativi che verranno fatti nelle vostre case, nelle vostre imprese, nelle vostre botteghe con il criterio dell'accusa, perché il generale della finanza parte dal presupposto che siamo tutti degli evasori, insomma, almeno questa è l'esperienza che ho in tanti anni di giornalismo economico e finanziario. Comunque, perfetto, teniamoci un bel generale, speriamo che sia, anzi mi auguro che sia di impostazioni liberali. Zaia intervista, dice, col cavolo che non si fa la Pedemontana, è un'opera fondamentale, il punto fondamentale però che non coglie, secondo me, Zaia, sul quale io condivido al 100% la sua intervista di oggi sul Corriere della Sera, è che il vantaggio delle grandi opere, della Pedemontana e delle altre grandi opere, non è soltanto riferita alla zona in cui insiste quella grande opera, ma l'Italia nel suo complesso. Se il Veneto ha maggiore facilità di esportazione, come ha spiegato bene Zaia, grazie alla Pedemontana, allora anche i fornatori veneti hanno maggiore possibilità di fornire loro materiali, semiprodotti, cioè la ricchezza del Veneto fa la ricchezza dei paesi vicini o di chi può esportare e rendere più ricchi i veneti e più competitivi le loro merci. Quindi le grandi opere non servono soltanto al territorio, servono tutta l'Italia per renderla più competitiva, molto difficile. Ciao da Trento, mi saluta qualcuno, ci hanno tolto la voglia di fare impresa, lo capisco, lo capisco, lui già hanno tolto la voglia di fare impresa. Andiamo avanti con un titolo che vi leggo testuale per farvi capire come ormai esista, non più destra e sinistra, esista quelli che vogliono un po' di sviluppo economico, quelli che chiedono il mercato e quelli che invece pensano che si debba ritornare alle carrozze. Ed è una di queste, è la concezione economica del fatto quotidiano. Sentite il titolo di prima pagina sulla tab. Terzo valico, sarebbe quello della Liguria immagino, farlo costa 6 miliardi, bloccarlo solo 2. Se l'avete capito. Fare un valico costa 6 miliardi, perché devi fare il valico, devi fare i buchi, devi fare i binari, devi fare le strade, devi fare la sicurezza, devi dare da lavorare a persone, a migliaia di persone, devi pagare stipendi, devi pagare... Non farlo solo 2! Quasi compiaciuti questi pazzi che non fare una cosa, beh costa solo 2 miliardi, che cosa cazzo vuoi che sia? Come cosa volete che sia? Non fare un'opera costa 2 miliardi e voi lo sottolineate, solo 2! Io dico, quando questi ragionano così, sapete che cosa dobbiamo fare? Veramente, quell'elicottero che c'era qua, dovremmo pensare che ci sarà una massa di morti di fame, il 99% delle persone, l'uno per milione che gira in elicottero. Chi se ne frega del valico, chi se ne frega delle strade, elicotteri. Andiamo con gli elicotteri, bene? Questo è il bel futuro rosio che ci aspetta. Altre notizie di giornata, ieri il compleanno e l'ultima conferenza stampa di Conte è stata vissuta diversamente dai giornali, il Corriere della Sera ha fatto una piccola intervista facendo finta che fosse una sua intervista a Conte, in realtà erano tutti i giornalisti che hanno incontrato Conte e il Corriere della Sera ha fatto nero-bianco, il corsivo, come se fosse un'intervista sua. Poi se tu compri gli altri giornali, come faccio io nelle rassegne stampa, ovviamente vedi che su tutti i giornali Conte ha detto zero, tanto che oggi Repubblica, secondo me il più divertente, ha detto, beh veramente ci viene da ricordare quell'intervista che fece, l'incontro che si fece in transatlantico tra un giornalista del Corriere della Sera, lo scrive Repubblica, tra un giornalista del Corriere della Sera e Forlani e Forlani parlava, parlava, parlava e dopo 15 minuti questo giornalista del Corriere della Sera, che mi sembra fosse Caprara, disse a Forlani, ma lei si rende conto, Presidente, che sono 15 minuti e non ci ha detto nulla. Bene, questo coraggio del giornalista del Corriere della Sera che spiegava a Forlani che non aveva detto nulla e Forlani gli rispose, guardi che potrei continuare un'altra ora a non dirle nulla, è esattamente quello che Repubblica, ma non solo Repubblica, tutti i giornali italiani oggi hanno definito essere stata la conferenza stampa ieri di Conte che ha detto zero, forse fa parte anche del suo ruolo, in questo non c'è una critica da parte mia, la politica è anche saper dire o non dire. Ma che dici che avete disastrato, voi del PD e del PD, poi c'è sempre qualche cretino che mi dà del PD, invece il Corriere della Sera fa questa intervista e invece l'insolitamente, come possiamo dire, ottimistico fatto quotidiano è nato un Premier con l'appoggio di Mattarella, ma insomma. Un'altra cosa che vi segnalo è incredibile e cioè che parla l'agricoltore su Repubblica, non è richiamata, l'agricoltore che aveva assunto, vi ricordate quei migranti di colore che sono morti in un incidente stradale e per una settimana abbiamo parlato, per una settimana abbiamo parlato dei caporali, della legge Martina, dello sfruttamento, tutte stronzate. Oggi leggetevi su Repubblica l'intervista di questo agricoltore che dice la seguente cosa, li avevo assunti, ci lavoravo, erano pagati regolarmente, purtroppo non sapevo che venivano trasferiti dai campi a casa loro con quel tipo di mezzo, hanno avuto un incidente e sono morti. Allora si tratta di una tragedia, certo che si tratta di una tragedia, vivevano come delle bestie, erano stati stipati come delle bestie in undici in un camion che poi è andato a fare uno scontro, certo che è venuto, però questo non è caporalato, porca puttana, questo è un incidente sul lavoro, è un incidente tra l'altro non sul lavoro, sul passaggio tra il lavoro e casa, è un incidente stradale, è una sottovalutazione della loro qualità del lavoro, di come dormivano, dice io non sapevo dove dormivano, non sapevano come tornavo a casa, ci sta o non ci sta, abbiamo fatto una pippa gigantesca sul caporalato e sullo sfruttamento, oggi la passata ci spiega la Coldiretti che soltanto l'8% del valore che avremo del costo finale deriva dal pomodoro, tutto il resto è la filiera per portarla, perché ce l'ha ovviamente con l'industria agroalimentare, la Coldiretti, il punto vero è Francesco, bla bla bla, non so se lo dice a me o lo dice ai giornali, ma quello che abbiamo detto è che questi signori erano stati pagati esattamente secondo tutti i contratti, dice l'agricoltore, staremo a vedere nei prossimi giorni se non è un delinquente, regolari, ovviamente domani nessuno lo riprenderà ovviamente. Andiamo avanti sulla cronaca di oggi, una cosa piuttosto rilevante bisogna vederla nei giorni prossimi e cioè sarebbe uno scandalo pazzesco, il fratello del cognato, state attenti, di Renzi, avrebbe utilizzato i fondi che lui raccoglieva per la sua Ollus per i bambini africani, li avrebbe utilizzati e stornati sul proprio conto, staremo a vedere come finirà, se lo storno sul proprio conto voleva dire rubare, solo un'espropriazione, bisogna capire poi se il fratello del cognato di Renzi cosa vuol dire, vuol dire qualcosa però in assoluto perché in realtà il fratello del cognato e il cognato stesso di Renzi, che si sono sposati una sorella di Renzi, o la moglie di Renzi non mi ricordo, Matilde Renzi, insomma avrebbero un po' truscato su queste cose e facevano anche affari per esempio con la Leopolda nell'organizzazione della Leopolda, sono certo che i giornali non lo lasceranno impunito da un punto di vista giornalistico nelle prossime ore. L'ultima cosa sulla quale io vorrei fare un sondaggio più tardi, lo troverete sul sito nicolaporro.it, il sondaggio è su nicolaporro.it e quindi andate sul sito a guardarlo, tra un quarto d'ora lo voglio mettere sul sito, riguarda la vicenda del treno che va da Milano-Rogoredo a Cremona. In quel treno, che l'agricoltore non sapesse come vivivano, come vivevano, ci credo poco, dice Gennaro, può anche dire, ma un'azienda secondo voi che si prende 50 persone per la raccolta dei pomodori che dura 10-15 giorni, sa esattamente come vivono quelle persone e deve essere responsabile di come vivono queste persone? Io so secondo voi esattamente come vivono le persone, non so che lavorano in un'azienda di cui io non do il lavoro, i miei colleghi so esattamente come tornano al lavoro? Io non lo so, non è detto che io lo sappia, non sono così sicuro di sapere che sono 11 sullo stesso campo, può anche darsi, può anche darsi che non sapesse dove vivevano. Voglio andare avanti sulla questione degli zingari, cosa che non si può dire, insomma quel capotreno, questi sono i fatti, in un treno che andava da Milano-Rogoredo a Cremona, che è una delle tratte dei pendolari più tipica del nord, dice non date monete agli zingari e si prega agli zingari di scendere alla prossima stazione perché avete rotto i coglioni, questo dice il capotreno. Un blogger dell'unità, un ex blogger dell'unità, oggi ricercatore del San Raffaele, l'unità non esiste più, twitta questa vicenda e succede la fine del mondo. Trenord vuole licenziare questa capotreno, mi pare che sia una donna, un casino pazzesco. Allora, il tema lo affronto ovviamente non con i toni di Repubblica, del Corriere, di quelli che potete immaginare, dicono tutti quanti che questo è il razzismo italiano, insomma il tema a venire, per dire è il simbolo di un paese che sta morendo, oppure la vignetta di Vauro, molto divertente nella sua atrocità, cioè Vauro fa una vignetta in cui dice a differenza di quel capotreno i nazisti li facevano salire sui treni, gli zingari, come per dire li portavano nei campi di concentramento, insomma stiamo evocando i campi di concentramento per questa frase del capotreno. Beh, Gnocchi sul giornale forse fa il pezzo che io condivido di più, ma c'entra poco perché io voglio sentire il vostro parere sul sondaggio tra poco, e cioè dice io sono un abitué di quel treno perché Gnocchi non vive a Milano, è uno di quei pendolari che prende il treno tra Milano e Lodi e più avanti ancora fino a Cremone, dice guardate quello è un disastro quel treno, quel treno è una roba allucinante per gli zingari, per la incapacità di gestire la sicurezza nelle stazioni, per i mendicanti, per il 90%, lui dice un terzo, due terzi di coloro che salgono su quel treno non pagano il biglietto e quando il capotreno va a chiedervi il pagamento del biglietto questi lo insultano e quando lui chiama la polizia, i carabinieri che non ci sono, quelli menano, chiaro? Questa è la situazione su quei treni e dice il capotreno o la capotreno, ancora non ho capito se un uomo o una donna ha sbagliato a dire quelle cose ma io la capisco perfettamente, dice Gnocchi. Invece ancora più estremista Senaldi sul Libero dice guardate che questa capotreno dovrebbe essere promossa perché dice il direttore di Libero non ha fatto nessuna discriminazione nei confronti del zingari, ha semplicemente detto di togliersi dalle balle perché questi rubano. Capezzone che è un radicale, ex deputato di Forza Italia, persona di cui mi fido molto e comunque non un estremista, dà ragione per esempio al capotreno dicendo ha sbagliato però è una capotreno esasperata per il modo in cui si lavora in quel posto. Io vorrei sentire la vostra idea più tardi su quello che ha detto la capotreno ragionando con attenzione sull'aspetto, lo dico a tutti quanti voi, comunque sia è un pubblico ufficiale che dice una cosa, pubblico ufficiale non so se lo sia, comunque è una persona che sul treno ha un peso importante perché è il capotreno, che una categoria ben precisa dice avete rotto i coglioni, cioè ragionate bene su come si mettono insieme queste due, perché io capisco l'esaspensione però mettete bene insieme le due cose, sapete qual è il mio retropensiero. Ultima cosa che vi segnalo, straordinaria, l'ho letta su Repubblica di oggi, ma è una cosa fantastica per capire come siamo un popolo di pazzi e non c'è nulla al peggio De Magistris. Allora De Magistris si inventa una elezione per gli immigrati, per rendere la città più inclusiva, per far sì che tutti si sentano napoletani e quindi fa un'elezione tra tutti gli immigrati napoletani. Il consigliere di Napoli che viene eletto tra soltanto gli immigrati in questa grande festa di giubilo, finalmente tutti partecipano alla vita cittadina e sanno dare il loro contributo a questa città, bene, insomma non parla italiano, non parla italiano, non sa parlare italiano, porca puttana, cioè non parla italiano e fa il consigliere comunale a Napoli e tutti fanno la grande festa e quindi sapete che cosa dobbiamo fare noi italiani, noi contribuenti nella città più indebitata d'Italia, dopo Roma, sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo pagare un cazzo di interprete perché riesca a tradurre quello che il consigliere straniero dovrà dire nel consiglio comunale per l'inclusività napoletana. Ma vi rendete conto? Qua stiamo a parlare del capotreno, noi stiamo parlando qua del sindaco di Napoli che fa sì che venga eletto un consigliere tra gli immigrati, poteva essere per esempio gli immigrati che hanno diritto di voto, ci sono tanti immigrati che sono diventati italiani che potevano votare, ci sono tante persone di coloro che sono consiglieri comunali, sono senatori, ma quale cacchio di motivo? Lo facciamo, lo facciamo uno che non sa parlare italiano e paghiamo un cazzo di traduttore che lo traduca nei consigli comunali e gli faccia capire che cosa stanno dicendo. Io non lo so, io dico cosa vi sembra questo, cosa vi viene in mente? Vabbè direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela, più tardi sul sito nicolaporro.it, il sondaggione! Ciao!